Ben trovati alla prima puntata della nuova rubrica che WeWealth dedica a esplorare i temi di investimento che potrebbero ottenere banco il prossimo anno. Il 2023 in direttura d'arrivo sta per chiudersi e sono tanti gli investitori e gli analisti che già guardano ai mercati dei prossimi mesi, tra molte incertezze. Quindi quali saranno i principali rischi che minoceranno il mercato, quali le condizioni economiche con cui dovremo confrontarci, ma soprattutto è già possibile ora individuare le asset class che sono destinate a spiccare più di altre. Ne parliamo con l'ospite di questa prima puntata che abbiamo in collegamento. Do quindi il benvenuto a Darnau Van Rijn, Portfolio Manager Sustainable Multi-Asset Solutions di Robeco. Benvenuto! Ciao, grazie! Grazie per essere qui con noi. Mr. Arnau, le ultime decisioni di Powell e Lagarde hanno suscitato ottimismo nei mercati. La maggior parte degli analisti sconta uno stop di rialzo dei tassi di interesse, l'inflazione è sotto controllo, addirittura in lenta discesa e la previsione di un atterraggio morbido dell'economia è la narrazione più diffusa. Per voi però è uno scenario fiabiesco, perché? Esatto, effettivamente ci riferiamo a questa situazione come riccioli d'oro. Tuttavia, pensiamo che forse sia eccessivo sperarci veramente, ovvero affrontare quella che noi chiamiamo disinflazione immacolata. Abbiamo visto l'inflazione arrivare fino all'8% e in alcuni paesi addirittura al 10% e la stessa ora sta scendendo verso il 4%. Noi pensiamo che quello che abbiamo visto finora sia stata solo la parte facile del percorso. La caratteristica principale di questo percorso di disinflazione, che è passata dall'8 al 4%, è stata che la disoccupazione non è stata praticamente colpita. L'impatto sulla sicurezza del lavoro è quindi stato minimo. Questo ha fatto sì che nel 2023 sia in Europa che negli Stati Uniti i consumatori abbiano continuato ad agire normalmente e abbiano continuato a spendere dal momento che l'inflazione stava scendendo. Allo stesso tempo i consumatori hanno ottenuto entrate più alte, giusto? I salari sono infatti aumentati perché si sono messi al passo con l'inflazione, ragion per cui i consumatori si sono sentiti piuttosto a loro agio. Ora, per il 2024, pensiamo che assisteremo a una disinflazione molto meno immacolata. Le banche centrali cercheranno ancora di tenere l'inflazione sotto controllo, ma come abbiamo imparato dal passato, l'inflazione dal 4 al 2% avrà un impatto molto più forte sulla disoccupazione. Quindi, quello che temiamo possa accadere nel 2024 è che vedremo l'inflazione scendere ulteriormente, ma allo stesso tempo questo avrà un impatto sulla disoccupazione. Vedremo allora un aumento effettivo della disoccupazione e questo dovrebbe andare a ledere la positività che i consumatori hanno ora, che quindi andranno a spendere meno. Allo stesso tempo, penso che le aspettative riguardo ai tagli, ai tassi di interesse, siano un po' troppo aggressive. Le persone si aspettano davvero, guardando ai mercati, che i tassi di interesse vengano tagliati dell'1% nel 2024. Noi pensiamo che questa ipotesi sia eccessiva. L'inflazione arriva spesso a ondate e ora abbiamo visto concludersi la prima. Dal modo in cui si stanno delineando le cose ora, vediamo ancora una scarsità di materie prime, ad esempio, e a questo contribuisce anche la transizione verde. E questo potrebbe tradursi in una sorta di seconda leggera ondata di inflazione. Quindi, quando parliamo del picco dei tassi di interesse e di come detterà il tono per il 2024 in termini economici, pensiamo che assomiglierà più a una montagna che scenderà solo gradualmente, piuttosto che al picco del cervino, che le persone stanno immaginando ora, pensando ai mercati. Molti si aspettano che i tassi di interesse scendano molto rapidamente. Noi non crediamo che questo accadrà, perché il quadro dell'inflazione non permetterà alle banche centrali di tagliare i tassi di interesse in modo aggressivo. Ed è per questo che stiamo assistendo a questo scenario da riccioli d'oro, che in realtà potrebbe essere troppo speranzoso. Grazie. Stando a quanto illustrato nel vostro outlook, i quattro fattori che hanno tenuto a galla l'economia nel 2023, nel corso di quest'anno, saranno destinati a svanire nei prossimi 6-12 mesi. Può spiegarci meglio di quali fattori stiamo parlando? Sì, in effetti uno di quei fattori di cui abbiamo già parlato è questo. Riteniamo che questa disinflazione si tradurrà in un aumento della perdita di posti di lavoro. Ciò significa anche che vedremo un impatto negativo sulla crescita degli utili delle aziende, in quanto le imprese non saranno più sostenute dai consumatori. Quest'anno, quindi, la disinflazione avrà un impatto maggiore. Questo è chiaramente fattore cruciale, ma anche altri sono molto importanti. Nonostante la forte impennata che abbiamo avuto nei tassi di interesse, abbiamo visto che questa non ha realmente intaccato molte persone finora, così come neanche molti governi o molti aziende. Perché, negli ultimi due anni, quando i tassi di interesse sono stati davvero bassi, molti, tra aziende, governi e consumatori, hanno ottenuto dei prestiti a lunga scadenza. Ovvero, per quanto riguarda i mutui, ne hanno ottenuti di molto convenienti per 10 o 20 anni. Le aziende hanno contratto prestiti per 5-10 anni, a tassi di interesse molto bassi, anche aiutati dalle politiche delle banche centrali europee, ovvero hanno ottenuto prestiti intorno all'1%. Se dovessero tornare sul mercato ora, dovrebbero invece pagare il 5% o forse anche di più. Lo stesso si può dire per i governi, che non hanno sentito la necessità di tagliare le spese, perché potevano, fino a poco tempo fa, contrarre prestiti con tassi prossimi allo zero, o forse all'1 o all'2%. Ora che questi tassi stanno salendo, di nuovo, al 3 o 4%, i governi non sono più liberi di spendere come prima. Quindi, si tratta di un fenomeno che dipende da diversi fattori. C'è però un grande ritardo, e penso che sia molto interessante in questo ciclo economico il fatto che stiamo assistendo a un intervallo di tempo molto ampio tra l'effettivo aumento dei tassi di interesse e il momento in cui questo colpisce davvero le economie. E questa era la seconda parte della questione. La terza parte è la geopolitica. Naturalmente tutti sappiamo cosa sta succedendo in Medio Oriente, in Ucraina, e anche la sorta di guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, ma i mercati non sembra abbiano ancora apprezzato questa situazione. Semmai l'elemento più importante è che, a causa di questa difficile situazione geopolitica, i paesi stanno iniziando a cercare di rendersi indipendenti dalle altre nazioni. Come qui in Europa, dove stiamo cercando di evitare di acquistare il gas russo, o anche negli Stati Uniti, dove non vogliono più comprare chip dalla Cina e viceversa. Quindi cercano di diventare più indipendenti dalle altre nazioni. Ciò significa che stanno sviluppando una propria catena di approvvigionamento e, a nostro avviso, questo si traduce anche in una maggiore spinta all'inflazione, perché tutti hanno bisogno di costruire gli stessi tipi di fabbriche, hanno bisogno delle stesse risorse e devono tenerle da zone più vicine a loro. Quindi c'è anche quest'altra spinta all'inflazione che arriva dalla geopolitica. Infine penso che un altro punto interessante tra questi quattro fattori sia l'intelligenza artificiale, che è stata un driver davvero importante, specialmente per i mercati azionari. Nel 2023 il mercato azionario statunitense stava davvero galoppando, grazie a Magnifici 7, come ci piace chiamarli, che sono cresciuti di più del 100% in media nel 2023. Finora quindi questa eccitazione sull'intelligenza artificiale è ancora importante da tenere d'occhio per il 2024, perché le persone si aspettano che l'intelligenza artificiale guidi davvero anche la crescita economica e che vedremo una maggiore crescita e una migliore produttività grazie all'intelligenza artificiale. Secondo noi molto probabilmente si è creato questo concetto del ciclo dell'entusiasmo, quando le aspettative crescono molto velocemente per poi essere deluse. Nel 2024 è infatti probabile che l'intelligenza artificiale non avrà un grande impatto sulla crescita della produttività e questo ci potrebbe portare a qualche delusione. Resta certo che l'intelligenza artificiale avrà un impatto molto interessante a lungo termine sulla produttività, ma tutti e quattro questi fattori contribuiscono a far sì, a nostro avviso, che vi sia un certo rischio di delusione per la crescita economica nel 2024. Grazie, le variabili non mancano e le sfide anche economiche sono tante a partire appunto dall'intelligenza artificiale. Guardiamo ora le strategie. Nel 2023 l'investimento sostenibile ha risentito di alcuni ostacoli, sia a livello di performance, sia a livello di attitudine da parte di certi investitori. Quali sono i trend che sosterranno uno sviluppo sostenibile duraturo? Quali sono le previsioni sulla crescita del mercato delle obbligazioni ISG? E anche sul fronte dell'azionariato attivo, cosa aspettarsi dalle stagioni del prossimo anno, del 2024? In effetti, dato che Robeco è molto attenta agli investimenti sostenibili, questo tema ci sta molto a cuore. Da questo punto di vista i Green Bond stanno ancora crescendo con forza. Nel prossimo futuro sarà quindi molto interessante assistere alla conferenza di Dubai, che parlerà delle prospettive climatiche, anche per vedere in che misura i governi globali continueranno a sostenere il passaggio alla transizione verde. Perché sì, con le pressioni di cui ho appena parlato, ovvero con l'aumento dei tassi di interesse, potremo vedere alcuni governi tirarsi indietro dagli impegni che hanno preso. Speriamo di no. E allora continueremo a vedere il giusto sviluppo in quest'ambito. Sarà molto interessante vedere come si evolverà la situazione dopo la conferenza di Dubai. Inoltre, ciò che abbiamo visto nel 2023 e che ha rappresentato un ostacolo per gli investimenti sostenibili è che nessuno si aspettava che i tassi di interesse salissero come hanno fatto nel 2023, sopra il 5%. Quindi molti dei progetti di questa transizione verde e che fanno parte degli investimenti ad impatto che facciamo nei fondi Robeco sono di natura a lungo termine. Le aziende stanno mettendo in atto progetti a lungo termine e i progetti a lungo termine sono quindi più sensibili ai tassi di interesse che devono essere applicati al progetto per finanziarlo. Quindi, se i tassi di interesse continuano a salire, lo scenario non è positivo. Anche in questo caso, penso che abbiamo visto il picco dei tassi di interesse, ma non scenderanno molto drasticamente a breve termine. Forse potrebbe essere più qualche cosa per il 2025. Nel breve termine, quindi, abbiamo assistito ad alcuni ritardi nello sviluppo di questi progetti e ciò ha danneggiato le azioni coinvolte in questi progetti. Infine, sempre su questo punto, abbiamo assistito ad un drastico sell-off di questi titoli ad ottobre. Si tratta però di un evento che si verifica solo una volta nella vita, una sorta di inversione drammatica degli eventi in ottobre e poi il rimbalzo a cui abbiamo assistito a novembre. Questi sono i tipici segnali dell'aver toccato il fondo. Infatti, le aspettative si sono ridotte drasticamente e ora possiamo guardare di nuovo ad un futuro più forte per gli investimenti sostenibili. E quando parliamo di obbligazioni verdi, Chiara, è anche interessante notare che lo sviluppo continua al giusto ritmo. È interessante notare che l'Europa continua a registrare una forte emissione di green bond, ma anche l'Asia sta contribuendo a questo fenomeno. In Asia, quest'anno, abbiamo visto quasi il 35% delle obbligazioni emesse avere una natura sostenibile. Quindi è chiaro che si tratta di un fenomeno già in atto. L'unico aspetto preoccupante sono gli Stati Uniti. E dal momento che le elezioni sono vicine, sarà molto importante che gli Stati Uniti rimangano a bordo. Finora non abbiamo visto gli Stati Uniti sul carrellonda delle obbligazioni verdi, con la stessa intensità con cui lo stanno facendo l'Europa o l'Asia. Si tratta quindi di un aspetto da monitorare. Infine, per quanto riguarda l'ambiente di mercato, Chiara, penso sia molto importante anche il fatto che molti dei titoli focalizzati su questa spinta verso la sostenibilità siano azioni a bassa capitalizzazione. Quest'anno ci siamo trovati in un mercato in cui solo i magnifici 7, quindi titoli a grande capitalizzazione, sono riusciti a trainare il mercato, mentre le azioni a piccola capitalizzazione in generale sono stati abbandonati dai mercati. Per il 2024 credo che ci sarà un'inversione di tendenza, per cui i titoli a minore capitalizzazione inizieranno a recuperare terreno rispetto ai magnifici 7, che hanno già sovraperformato. Questo spiega molto bene perché continuiamo a pensare che gli investimenti sostenibili siano la strada da percorrere per gli investitori. Grazie, grazie mille per questa view, per questa panoramica di quelli che possono essere, abbiamo elencato i rischi, le condizioni economiche che ci troveremo ad affrontare il prossimo anno, ma soprattutto le opportunità di investimento che meritano di essere tenute in considerazione per costruire un portafoglio giusto, un portafoglio di investimento giusto per i prossimi mesi. Grazie mille a Darnao Van Rijn per essere stato con noi. Grazie mille per avermi ospitato oggi, Chiara. È stato davvero un piacere approfondire questi temi. Grazie, grazie a lei. E ovviamente grazie anche a voi per averci seguito. Se avete domande, dubbi, curiosità, se desiderate ricevere consigli sulle strategie di investimento da adottare nei prossimi mesi, potete scriverci semplicemente cliccando sul link che trovate nella descrizione del video su YouTube oppure su quello che vedete comparire a video. Grazie mille, alla prossima.